Eccoci con Espurio nel post partita contro l'OIR, un commento a caldo su questa partita? Partita difficile, loro sicuramente più motivazioni di lui, noi dovevamo fermare una quarta posizione abbiamo dimostrato che anche il campionato quasi finito, comunque riusciamo a fare le nostre partite se giocamo a calcio è una cosa diversa sicuramente Sicuramente avete dimostrato il fatto di avere ancora la voglia, nonostante il risultato acquisito e di proteggere il quarto posto, però a volte riuscite a complicarvi un po' la vita da soli Sì, hai ragione, totalmente, è un po' di nervosismo, sicuramente il motivo non l'ho capito ad un modo passivo sicuramente da fuori, persone che non dovevano parlare sicuramente anche perché hanno nervoso la partita, noi stupidi a cascarci, però comunque l'abbiamo ripresa bene quando svantaggio, poi non meno altri due gol, risultato più che giusto Si è stato ovviamente meritato 9-7 che però ancora una volta spesso ha mancato tante occasioni da gol poi per fortuna nella fine ci hai pensato anche te Stramamente sì, oggi sì, giornata sfortunata, soprattutto al primo tempo perché comunque andavamo sempre lì negli ultimi 16 metri poi mancava sempre quel pizzico di, non so, cattiveria, determinazione per fare cose che poi al secondo tempo abbiamo trovato bene Senti, siamo quasi alla fine della stagione, ti chiedo proprio velocemente un voto la stagione della 9-7 è tua La stagione della 9-7 è bene noi potevamo fare di più per le nostre qualità abbiamo avuto un po' di blackout in pulimento del campionato però un bel 8 sì la stagione mia è un 7 normale quindi oltre la sufficienza Sì, sì Ti ringrazio ancora, alla prossima Grazie a voi